Mi chiamo Maurizio Maestrelli, sono l'ideatore della Milano Beer Week, una celebrazione delle buone birre d'autore in 18 locali di Milano, la prima edizione di questa settimana che sta andando molto bene e che vuole essere un modo per andare alla scoperta di quelli che sono i migliori locali della città e soprattutto la possibilità per tutti di bere grandi birre. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Perché Milano Beer Week? Perché Milano è una città che sta conoscendo un'esplosione a livello di locali birrari veri, locali che valorizzano le birre diverse e che sono una porta d'ingresso per un mondo che di solito una volta entrati non vi lascia più uscire. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.